Il 2020 sarà un anno fondamentale, serve una sferzata all'azione di governo. Il Presidente della Regione Donato Toma annuncia il rimpasto di giunta, la redistribuzione delle deleghe e novità nei vertici dei dipartimenti. Gli obiettivi raggiunti nel 2019, per il Governatore il più importante è il patto della salute e per i privati convenzionati che generano mobilità attiva alla proposta del pagamento diretto dalle altre regioni. Le opposizioni bocciano però l'operato di Toma, per il Movimento 5 Stelle l'esecutivo è inutile, mentre per il PD manca la visione futura. Il maltempo, diversi centimetri di neve in tutto il Molise, temperatura sotto lo zero a Capracotta, la perturbazione è arrivata in tutta la provincia di Isernia in particolar modo, facendo registrare la prima significativa nevicata in Alto Molise, freddo intenso e vento negli altri centri. Nervi tesi in Consiglio Comunale, a Isernia, i popolari hanno ufficializzato l'uscita dalla maggioranza. Alleanza per il futuro ha chiesto l'azzeramento della giunta per il Sindaco d'Apollonio, i numeri per andare avanti sono risicati. Infine lo sport, il calcio, il premio Vincenzo Cosco è stato assegnato al tecnico del Bologna Sinisa Mijailovic. Campo basso, il difensore Menna, già proiettato alla prossima gara contro l'Avezzano. Bentrovati, nuova edizione del Tg di Teleregione. In apertura il bilancio del governatore Donato Toma di questo 2019. C'è stata una conferenza stampa questa mattina, vi ha preso parte l'intera giunta. Le novità prossime riguarderanno proprio la composizione dell'esecutivo perché il Presidente è pronto a cambiare. Ha parlato di questo e di tanto altro nell'incontro con i giornalisti che ha seguito per noi Pierluigi Boragine. Il 2020 sarà un anno fondamentale, serve una sferzata all'azione di governo. Così il Presidente della Regione chiude la conferenza stampa di bilancio dell'attività svolta nel 2019. Dunque un rimpasto di giunta, una redistribuzione delle deleghe e cambiamenti anche nei vertici e nei dipartimenti. Andrò in meditazione nel monastero di Casa Calenda, scherza Donato Toma. In giunta potrebbe esserci una donna, aggiunge, poi però spiega che è contrario alle quote rosa come obbligo. Insomma il cambiamento è previsto e l'annuncio ci sarà nei prossimi giorni. Io ho detto e lo ripeto che sto meditando e quindi con grande probabilità questa meditazione avrà una conclusione. La conclusione potrebbe anche essere quella della rivisitazione delle deleghe e dei componenti della giunta. Un anno, il 2020, della sfida delle strade, rimarca il Presidente. Grazie a Cassa Depositi e Prestiti, 354 milioni, fondi richiesti dai comuni, un centinaio, CDP permettendo quelli disponibili. Poi la sanità, il patto per la salute, l'obiettivo più importante che Toma rivendica con forza perché dice ai tavoli bisogna andarci per avere rispetto e per vedersi inserite le richieste. Quello che a me sta più a cuore è sicuramente il patto per la salute, ma non è solo quello. Nel patto ci sono la revisione del commissariamento, dei posti letto, delle specialità, ma anche il rapporto con i privati. Toma proporrà per gli accreditati, che creano mobilità attiva su tutti i neuromed e i gemelli, di ricevere il pagamento direttamente dalle regioni, i cui malati decidono di curarsi in Molise. Penso che il rapporto con i privati è un rapporto da salvaguardare, è un rapporto fondamentale, ma penso anche che vada rimodulato così come è stato previsto nel patto per la salute. Magari con un pagamento diretto da parte di quelle regioni i cui cittadini fruiscono della sanità convenzionata. E ancora il ruolo centrale a Roma e in Europa perché è lì che si risolvono i problemi. Il post-sisma con accanto la Giunta e il sottosegretario Pallante rivendica di aver accelerato i pagamenti. C'erano arretrati di due anni a ferma, li abbiamo portati a sette mesi. Per il sisma del 2018 invece dice di essere ostaggio del governo, che ancora non nomina il commissario per la ricostruzione. Il paradosso è che i soldi ci sono, ma non possono essere utilizzati. Mi auguro che ci consentano di utilizzare per quelle popolazioni 38 milioni di euro quanto prima. Mi risulta che i denari sono a disposizione, però il governo ancora non si è determinato sulla nomina del commissario che tra l'altro io qualche settimana fa ho fortemente sollecitato. E ancora le risorse per la Castellecce, per la Fresilia, l'acquedotto molisano centrale, due leggi per artigianato e commercio, non ci facevano da 20 anni, dice. Il dragaggio del porto di Termoli, la perimetrazione del Parco Nazionale del Matese, approvata in Giunta con l'ultima parola che toccherà all'ISPRA. Le risorse per Exit TR e Gamme, per questi ultimi fondi per l'autoimprenditorialità. Infine ZESA Adriatica, che definisce un'opportunità straordinaria, area di crisi complessa con i fondi non allocati che saranno riprogrammati. E una promessa ai molisani, il 2020 sarà l'anno in cui i miglioramenti potranno essere toccati con mano. Devono aspettarsi una concretezza maggiore, devono percepire maggiormente che il governo regionale è vicino ai molisani e quindi la macchina amministrativa deve raddoppiare la rapidità, l'efficienza e l'efficacia. Il Movimento 5 Stelle invece boccia sonoramente l'anno del governo Toma. TPL bocciato, turismo a zero, sanità alla deriva, poche leggi ex novo approvate e tutte di matrice pentastellata. Queste le dichiarazioni dei portavoce del Movimento, oggi sempre in conferenza stampa. Sentiamo Cristina Nero. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle questa mattina qui in Consiglio regionale ha tenuto una conferenza stampa per tirare le somme di questo anno di lavoro. Anno di lavoro focalizzato certamente sull'attività dei pentastellati, ma in particolare su quella dell'intero Consiglio e della Giunta. Diversi temi che hanno centrato i quattro consiglieri sono partiti per esempio dalla bocciatura sonora ricevuta in sede di Consiglio alla riforma del trasporto pubblico locale. Purtroppo questo è stato un altro anno perso per il Molise e grazie al Movimento 5 Stelle, grazie a un'azione costante sul tema del trasporto pubblico locale, siamo riusciti a bloccare quella che abbiamo definito una deforma del trasporto pubblico locale. Questo è significato una bocciatura su tutta la linea dell'assessore Nero e del presidente Toma, che in aula sono stati bocciati sì dalle minoranze ma soprattutto da parte della maggioranza stessa. E oggi questo ha comportato, proprio in queste ore credo che si sta azzerando la Giunta per ridare le deleghe. Questo significa che un governo a 18 mesi dalle elezioni è completamente fuori strada e non hanno assolutamente idea di dove traghettare il Molise. Poi il piano del turismo, mancano i risultati di questo piano strategico, hanno detto i consiglieri. A maggior ragione non ne capiamo le strategie perché a tutt'oggi gli impianti di Campitello-Mattese sono fermi. L'impianto di innegamento artificiale della stazione scistica di Campitello è fermo a causa di un collaudo che sugli impianti scistici è tardato ad arrivare. Nel frattempo vediamo che la stazione nostra diretta concorrente, quella di Roccaraso, è in piena attività e sta già iniziando a programmare il cosiddetto fondo per le piste da sci in modo da attrarre più turisti. In questa regione di fatto siamo fermi, siamo immobili, realizziamo piani, ma nulla più. Quest'anno è stato caratterizzato proprio da questo, da una miriade di piani, dal piano della mobilità, al piano dei trasporti, al piano del turismo, ma nulla di concreto è stato fatto per dare una speranza ai molisani. Questo secondo me è il più grande fallimento di questa giunta regionale. Commissione antimafia, una punta di diamante voluta dal Movimento 5 Stelle, grazie a loro infatti è stata istituita questa commissione e il consigliere Nola ha parlato di emergenze importanti per il Molise, come per esempio la disoccupazione, i fondi necessari per l'edilizia, ma senza dimenticare altri aspetti che riguardano proprio il lavoro della commissione. Quindi le infiltrazioni presenti, ormai certificate, soprattutto l'emergenza droga e i suggerimenti al riguardo che arrivano dal tavolo nazionale. Dobbiamo sapere tutti che anche in Molise purtroppo abbiamo 11 beni confiscati dalle mafie, quindi 11 beni dislocati in quasi tutto il nostro territorio. Ciò significa che non siamo immuni da questa purtroppo brutta malattia, ma la cosa che abbiamo acquisito di recente è proprio il fatto che abbiamo molti, molti giovani che sono compromessi su questo discorso delle droghe, sia lato città principale, sia lato basso Molise. E quindi uno degli inviti che ci è venuto è proprio quello di spingere la nostra direzione sanitaria, quindi l'ASREM sostanzialmente, a tutelare i nostri giovani che si rivolgono ai CERT, che in questo momento non hanno personale. Quindi pensate, a Campobasso non ci sono psicologi. Quindi si è passati ad una critica del lavoro reso da questa maggioranza, in particolare dalla Giunta. I consiglieri dicono di non capire la presenza degli assessori in aula dal momento che rarissimi sono i loro interventi, se non addirittura inesistenti. E poi le leggi, le leggi approvate. Il Presidente del Consiglio regionale Micone ne ha citate 22 nel suo bilancio. Sentite cosa pensano i consiglieri pentastellati. Di queste 22 leggi, dobbiamo dire, un terzo sono quelle legate al bilancio, quindi sono leggi obbligatorie, variazioni di bilancio, rendiconti, la legge di stabilità, l'unica che abbiamo fatto quest'anno. Ma, diciamo, le leggi, se vogliamo, un altro terzo sono quelle legate a modifiche di legge, quindi modifiche di legge anche di una sola singola parola. Quindi quelle vengono computate come leggi approvate. Ma, se vogliamo dirla tutta, le leggi più degne di nota di quest'anno sono quelle sui vitalizi, quindi una matrice è 5 stelle, quella è il governo nazionale, la parte del governo nazionale 5 stelle, quella sulla commissione antimafia, che abbiamo noi presentato la proposta di legge e Vittorio Anola, il mio collega e presidente, e l'ultima è quella che abbiamo modificato in sede di consiglio, quella sulla riforma del TPL, quindi lasciando il lotto unico regionale e la procedura aperta per il bando. E gli esponenti del PD, Micaela Fanelli e Vittorino Facciola, hanno parlato di clamoroso flop del governo regionale che non ha prospettive per il futuro, un incontro sempre con i giornalisti per denunciare quanto, secondo loro, non è stato fatto in questo anno. Un bilancio che non è capace di programmare il futuro. E questa è la preoccupazione più grande che in questo anno e anche in questa conferenza di fine anno abbiamo manifestato come gruppo del Partito Democratico, perché non c'è una visione strategica, non c'è una capacità di concertare col territorio, con le organizzazioni, le associazioni, i sindacati, non c'è una serie di punti da cui ripartire. Un'ordinaria amministrazione, spesso anche gestita molto male, come l'episodio del trasporto pubblico locale in consiglio, dimostra una sonora bocciatura della proposta Niro-Toma del doppio lotto e un ricominciare da capo tutte le volte a danno, per esempio in questo caso, degli utenti, a danno anche degli operatori, dei lavoratori. Per il Partito Democratico del Molise, dunque, quello trascorso in consiglio regionale è stato un anno durante il quale si è lavorato tentando di seguire piattaforme valoriali che da sempre caratterizzano l'operato del PD. Lo hanno riferito in conferenza stampa i consiglieri Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla. Tante le proposte, targate il PD, pressoché assenti le risposte del governo regionale. Noi in quest'anno abbiamo presentato 66 atti, fra cui molte proposte di legge che rappresentano un posizionamento ideologico del PD, dal lavoro allo sviluppo, alle cooperative comunità, al sociale, all'ambiente, ai diritti delle minoranze. Questo per noi è una visione. Oggi anche in conferenza stampa da Toma avremmo voluto sentire la stessa cosa, la stessa capacità di interpretare il futuro. Questo non c'è, molto spesso appunto le attività ordinarie sono carichi di errori e questo, diciamo, è un pesante fardello sulle spalle dei molisani che capiscono molto bene e che danno un giudizio negativo. Infatti la sfiducia nei confronti di Toma del governo regionale è ai minimi storici. Quindi stabilito il flop di quest'anno di lavoro del governo targato Toma, l'auspicio è che se nuova giunta ci sarà che sia in grado di cambiare rutta. Poi aspettiamo i rimpasti, gli annullamenti, gli azzeramenti di giunta, perché anche l'anno scorso sembrava arrivassero i botti e poi non è successo niente. Quest'anno, non avendo più la maggioranza in consiglio, Toma qualcosa dovrà fare. È stato capace in pochi mesi di cancellare tutto il consenso che aveva portato a avere la maggioranza in consiglio. Oggi se lui fosse assente in consiglio non avrebbero i numeri per approvare nulla. Quindi aspettiamo, perché è il frutto di questa fortissima crisi che lui sta attraversando, che la maggioranza di centrodestra attraversa, partorisca qualcosa di buono. Ma non in termini di poltrone o di alchimie, in termini di risultati, in termini di organizzazione di un lavoro di visione organico della giunta che a tutt'oggi è assolutamente assente. Nervi tesi, il Consiglio Comunale a Isernia e i popolari hanno ufficializzato l'uscita dalla maggioranza. Il Movimento Alleanza per il Futuro, sempre di centrodestra, ha chiesto l'azzeramento della giunta e adesso per D'Apollonio il futuro si fa ostico, visti i numeri risicati. Sentiamo Nicola Di Santis. L'ultimo Consiglio Comunale dell'anno a Isernia si consuma in un clima tutt'altro che natalizio. In apertura di seduta, Gianni Fantozzi legge un documento in cui ufficializza l'uscita del gruppo dei popolari dalla maggioranza che sostiene il sindaco, Giacomo D'Apollonio. In realtà i popolari vivevano già da separati in casa. Il documento letto in aula sancisce il divorzio definitivo. Intendiamoci, uscire dalla maggioranza non significa non votare i provvedimenti che vanno nell'interesse dei cittadini perché saremo sempre presenti e voteremo tutti i provvedimenti che riterremo opportuni e a favore della cittadinanza e della città. Ma non sosterremo sicuramente questa maggioranza. Che significa? Significa questo, che siccome il sindaco ha inteso allargare la maggioranza ad un gruppo di persone che in campagna elettorale era avverso alla sua candidatura sindacale, a questo punto lui ha di fatto creato una maggioranza alternativa. Maggioranza alternativa e quindi sui punti salienti e mi riferisco bilancio, assestamento di bilancio e tutte le cose che sono predominanti per l'amministrazione comunale deve garantire la maggioranza. Se non ha la maggioranza noi non lo sosterremo. Però per i provvedimenti amministrativi di amministrazione spicciola noi saremo disponibili e voteremo sempre tutti i provvedimenti. A questo punto per il sindaco Giacomo D'Apolloni i numeri per concludere il mandato sono risicati. Giovan Carmine Mancini ritiene che la maggioranza di Palazzo San Francesco stia portando sull'orlo del baratro l'intero centrodestra non solo cittadino a un anno dalle comunali di Sernia. Per questo chiede al generale l'azzeramento della giunta unica strada a suo avviso per superare l'impasse. Ho chiesto l'azzeramento della giunta perché quella maggioranza preso atto anche dalla fuoriuscita della maggioranza dei popolari uscita dalle elezioni non c'è più. Si azzera la giunta il sindaco dopo aver incontrato tutti i partiti e i movimenti politici di area di centrodestra riformula e rinomina la giunta per andare avanti o ancora un anno e mezzo in modo dignitoso per provare a risolvere qualche problema della nostra meravigliosa città. Altrimenti è inutile andare avanti con questo spettacolo indecoroso dove volano gli stracci a modi con marelle impazzite dando un pessimo esempio e dando un'immagine di centrodestra che non esiste che non c'è che non è quello reale il centrodestra è tutt'altro se questi vogliono rovinare un'area politica in questo modo io farò di tutto per impedirlo fino alla fine rimanendo all'opposizione in minoranza è il mio ultimo estremo tentativo che faccio chiaramente giocando molto su me stesso perché potrei tranquillamente guardare questa loro fine visto che io sono all'opposizione e sono stato eletto e sono rimasto in alleanza per il futuro grazie a Campopasso da oggi fino al 6 gennaio vige il divieto di utilizzo dei botti quindi materiale esplodente e anche per gli esercenti e anche per i cittadini di portare il vetro in piazza in riferimento a tutta la zona del centro e a proposito del centro del capoluogo il capogruppo in consiglio di Fratelli d'Italia è tornato a denunciare lo stato di degrado del centro storico della città anche alla luce dell'interrogazione rappresentata durante il consiglio che è stata firmata dallo stesso annuario oltre che dal leghista Alessandro Pascale la zona del centro storico come via Ziccardi via Larino piazza Pepe via Ferrari è un colabrodo con gravi disagi per i pedoni al passaggio a livello di via Mazzini manca un pezzo di marcia a piede e le persone sono costrette a camminare per strada situazioni analoghe sono segnalate continuamente dai residenti al quartiere CEP e a San Giovanni ad oggi ha proseguito il capogruppo di Fratelli d'Italia annuario nonostante l'interrogazione non si è intervenuti nemmeno con delle soluzioni tampone si è dimesso l'assessore ormai ex del comune di Montenero di Bisaccia che negli ultimi giorni era finito al centro di una grande polemica esattamente dieci giorni fa postò sul suo profilo facebook un messaggio poi cancellato una frase del duce con tanto di foto di Mussolini ne erano seguite vibranti polemiche il sindaco Travaglini e l'intera giunta avevano chiesto il suo passo indietro con forza ed oggi sono arrivate le dimissioni con una lettera Massimo Di Stefano dice mi dimetto ma questa cosa sarà un boomerang l'ormai ex assessore alla cultura ha infatti accusato i suoi detrattori di strumentalizzazioni politiche in merito a questo episodio che come detto aveva creato una grossa eco mediatica ed ora parliamo del maltempo circa 20 centimetri a Capracotta con temperature sotto lo zero le piste di Prato Gentile con un po' di difficoltà sono state battute quindi per gli amanti dello sci di fondo è possibile dedicarsi alla propria attività certo non è la neve che si attendeva insomma però l'annunciata perturbazione è arrivata soprattutto in provincia di Isernia con un particolare riferimento appunto all'Alto Molise il freddo è intenso e ci sono dei venti molto forti le strade sono comunque tutte praticabili con i dispositivi antineve che sono già scattati qualche problema alla viabilità a causa del ghiaccio un mezzo pesante oggi è finito fuori strada a Frosolone è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco nessuna conseguenza per gli occupanti la polizia stradale raccomanda la massima prudenza e naturalmente di mettersi in strada con l'equipaggiamento da neve andiamo a termoli nuova iniziativa dell'editore Stefano Leone sono stati presentati tre nuovi calendari per salutare il nuovo anno Giovanni Cannarsa nuova iniziativa editoriale di Stefano Leone tre calendari per il 2020 EICON noi e VIS di che cosa si tratta e come sono stati ideati sì tre nuove opere editoriali che hanno avuto anche quest'anno il supporto preziosissimo e la condivisione dell'importantissimo artista nazionale il maestro Francesco Toraldo che ha realizzato ad hoc due importanti quadri riprodotti nella copertina di VIS il calendario nazionale dei bersaglieri e di EICON il calendario che attiene alla termoli della memoria ma anche alla termoli contemporanea non da ultimo noi un'altra opera editoriale un calendario che ho voluto dedicare alla dottoressa Francesca Cappella della scuola normale superiore di Pisa ecco tre iniziative che rappresentano come dicevi un'identità quella di un corpo che si è sempre contraddistinto quella di una di una cittadina e quella di una persona che comunque nel suo campo ha dato molto alla collettività sì in una società e in una politica a livello anche internazionale e mondiale sempre più lenticolare che perde gli orizzonti e i valori il riferimento anche a pubblicazioni di questo tipo può essere di assoluta importanza ripeto come memento quotidiano per riverberare in ognuno il sentimento della responsabilità della identità un punto fermo che ci può liberare dal mosso della paura di vicende terribili cui la società può andare incontro che futuro possiamo trasmettere attraverso questi tre calendari il futuro è nei libri il futuro è nella cultura nel giorno non auspicabile ma temibile del grande blackout della rete sotto le macerie nel buio rimarrà il valore della cultura il valore dei libri in una società proiettata totalmente verso il mondo del digitale che cosa lasciano questi tre calendari le immagini più che altro che cosa trasmetteranno le nuove generazioni anche un domani ma senz'altro lo stimolo ad indagare il percorso di una storia assolutamente vicina che appartiene a tutti ovunque nel mondo una storia quanto importante da conservare quanto realizza del passato e trasmette sì una storia importantissima perché è la storia dell'uomo in fondo proprio perché ogni uomo ha una storia da raccontare abbiamo parlato della neve ora nel dettaglio vediamo che tempo farà in Molise nelle prossime ore Previsioni del tempo di martedì 31 dicembre giornata all'insegna della stabilità con il sole alternato a nubi sparse più frequenti e consistenti sulle zone interne appenniniche ma senza precipitazioni temperature senza particolari variazioni nei valori minimi in lieve aumento le massime mare adriatico molto mosso le temperature sui maggiori centri della regione campo basso minima 0 massima 7 gradi Isernia 0,9 Termoli 2,10 Venafro 2,11 Ed ora qualche istante di pubblicità restate con noi però perché tra pochissimo c'è la pagina sportiva apriamo la pagina sportiva ricordando Vincenzo Cosco il premio a lui istituito all'indimenticato allenatore di Santa Croce ebbene Sinisa Mijailovic ha conquistato il premio Cosco 2019 ad annunciarlo è stato Nicola Provenza fondatore di Overtime La vita oltre il calcio associazione che ogni anno assegna un riconoscimento a un allenatore simbolo e quest'anno la scelta è ricaduta sull'allenatore del Bologna che sappiamo sta portando avanti una battaglia importante contro la malattia e sta continuando con il suo grande carattere ad andare in panchina l'annuncio è stato dato a Matera durante un incontro dal titolo Tu non sei in fuorigioco e ricevuta la notizia del premio che sarà consegnato nei prossimi giorni a Casteldebole sede delle sedute della formazione del Bologna Mijailovic in una lettera si è detto onorato e grato per questo riconoscimento D'ora parliamo di calcio di serie D del Campobasso Menna racconta il momento positivo del lupo e guarda con fiducia al prossimo futuro sentiamolo Damiano Menna si ritorna in campo contro l'Avezzano che sfida ti attendi? è una sfida che dobbiamo affrontare come abbiamo sempre fatto queste ultime partite cercare di allungare la striscia positiva l'Avezzano viene da un momento difficile dobbiamo cercare di metterli subito al tappeto ecco questo Campobasso dove può arrivare arrivato a questo punto? questo Campobasso deve guardare partita dopo partita poi a fine anno si tireranno le somme se davanti a noi continueranno con questo passo a fine anno facciamo un applauso terza migliore difesa del girone e anche insomma a merito di tutto il reparto del gruppo sì sì ma dobbiamo migliorare ancora di più per arrivare ad essere la miglior difesa lo guardi in notaresco? certo lo guardiamo in notaresco però comunque noi dobbiamo pensare a noi e cercare di fare bene fino alla fine con un tuo augurio per questo 2020 ma spero che continueremo a vincere tutte le partite e arrivare fino all'obiettivo Cerramarico in casa della Magnolia a Campobasso parliamo quindi di basket femminile di serie A2 dopo la sconfitta col ponte bugianese una sconfitta meritata però dice il coach Mimmo Sabatelli che la identifica anche come un campanello d'allarme ascoltiamolo intervistato da Francesco Presutti dopo la partita Mimmo come era accaduto con Umberto e si riparte si riparte da Viterbo insomma senza nessun dramma no drammi non ne facciamo così come non abbiamo fatto chissà che cosa quando abbiamo vinto però sicuramente è un campanello d'allarme è inutile negarlo è la seconda volta che in casa perdiamo una partita e una squadra come la nostra non lo può fare ma soprattutto non riusciamo in casa a impostare il gioco che dobbiamo impostare permettiamo alle altre squadre di venire qui e di giocare con serenità e ci complichiamo la vita quindi sicuramente non va bene così credo sia un fatto mentale troppa magari frenesia nel voler nel voler chiudere subito la gara sono convinto che sia un discorso mentale perché comunque giocare davanti a questo pubblico la palla sicuramente pesa di più rispetto a chi viene qui a giocarsela con serenità però non deve essere una scusante questa squadra se vuole vincere qualcosa di importante non può fare questi passi falsi oggi abbiamo fatto un ennesimo passo falso casalingo e c'è da lavorare c'è da lavorare l'anno prossimo ci sono le final eight di Coppa Italia e poi ovviamente il campionato insomma con calma credo che ritroverete la serenità bisogna lavorare bisogna migliorare bisogna trovare le giuste le giuste situazioni di gioco sia offensivo che difensivo noi ho sempre detto che per vincere le partite dobbiamo difendere bene stasera non lo abbiamo fatto e il risultato ci ha condannato come succede spesso peccato perché nel primo quarto eravate partiti bene sì ma ripeto è un problema che ci stiamo portando da un po' di tempo nelle partite casalinghe noi non possiamo non difendere non possiamo concedere tutto quello che abbiamo concesso la scorsa volta a Umbertide e stasera a Pistoia che è venuto qua ha fatto il gioco loro hanno fatto quello che dovevano fare e hanno vinto meritatamente e questo era il nostro ultimo servizio che come sempre vi ricordo potete rivedere attraverso la nostra pagina Facebook o il sito web teleregionemolise.it grazie per essere stati in nostra compagnia e da parte mia l'augurio di un felice anno nuovo arrivederci a presto